ciao ragazzi benvenuti questo nuovo video il corno dei survivor allora cosa faremo in questo episodio? costruiremo a caso yeee altra cosa come potete vedere ragazzi non ho completato le mura perchè sono in una cosa tro... oggi entro questo episodio eh si ma giù sarebbe che oggi vogliamo fare secondo episodio ovvero il coso cosi del 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 dove sta tu non sbaglio non ho pensato eh si ho le 4 guardie non so se non mi serve con voi e e continuiamo a scavare qua che serve 20 io alla prima che ha sul port tuttututututu tuttutututututu tuttutututu adesso ragazzi ma io ultimamente ho voglia di vedermi metaforicamente parlando no ho voglia di vedere comunque vecchia non è la mia impressione o sembra che anche la terra abbia l'erba che impressione il fondo vicino la parola dolta dolce abbassa la voce perché in altra senzio c'è il mio padre che torna quindi sì che bello andiamo 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 che può cui mi sono scelto un posto bellissimo per fare una casa per fare le case perché devo andare a spendere tutto questo quindi di sboscamento così troppo non sboscherò più trovo le case in salita comunque arzi il progettino voglio fare per le case ovvero costruire un giardino lì sopra ovvero qua ci comparirà un buon tetto a tetto con sopra un giardino quindi tutto il piccolo video cominciamo in una settimana che non gioca presto e mi sto uccidendo le corne degli occhi contro luce in una settimana che non gioca presto e mi sto uccidendo le corne degli occhi contro luce quindi ho cominciato a giocare a dire vero a cosa? lol che è sempre una scramazia ma ci penso ai gente ho cominciato a giocare a lol si sono molto più una scramazia scramazia comunque se ricordate avete preso interesso in cima la più o meno avevo detto che non sapevo cosa fare la su farol la casa la casa del nostro personaggio che scuterà tutto quanto sono un castello un po' un castello molto apposito si allora forse avevo tutto afferdito la roccia penso per altri uguali mettiamo la nostra pietra no adesso ho sbagliato e sono pure caduto che è qui tre quattro ok escludendo i rumori sottofondo gente c'è questo cosa che ci penso adesso hanno stanno togliendo su warfare and trinity prime a chi serve dei pezzi chiedete ne ho un paio no ne ho un paio di pezzi da falcetto chiede se hai tubito un falcetto però abbiamo lo stesso allora è una casa triangolare più o meno ma neanche per niente quindi quindi poi mi sono un po' bene bene a scavare tutto quinto quinto sì è una buona ora pam 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 le vecchie tecniche di scavaggio di minecraft non si rormenita mazza tolce 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 quindi tolce 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 coali proprio le cose che mi vado a estrarre ah vengaa e andiamo a prendere il coali Ah si, da quando ho tolto uno stato di tetto scena molto meglio, ecco qua, eccolo qua. Non so se ve l'ho mai raccontato ma mi ricorda quando a scuola che faccio elettrici sta insieme a un fatto...